Malinda Page Hamilton è nata a New York. Ha recitato nel film del 2004, Terra Promessa, e un ruolo principale nel film diario di un assassino La Hamilton è apparsa anche in Desperate Housewives nel ruolo di suor Mary Bernard. È stata anche guest star in diverse serie, tra cui Grey's Anatomy, Private Practice, Star Trek, Enterprise, CSI, NY, CSI, Miami, Everworld, Nip Bar Attack, Death Losser, NCIS, Unità Anticrimine, Modern Family e True Blood Nel 2013, la Hamilton è stata scelta per interpretare Odessa Burakov nella serie di Vias Maids, Panni Sporchi a Beverly Hills Nelle versioni in italiano dei suoi lavori, Malinda Page Hamilton è stata doppiata da Grazie per l'attenzione. Iscriviti al Calane